Il Comune di Maratea lancia la terza edizione di Addobba la tua frazione. Si tratta del concorso per addobbi natalizi che intende perseguire l'obiettivo di abbellire con luci, luminarie e addobbi le frazioni del territorio marateota. La partecipazione al concorso è libera, previa registrazione. Si può partecipare alla competizione realizzando una decorazione natalizia che preveda la posa artistica di luci di Natale e addobbi nella propria frazione, secondo il proprio gusto e il proprio estro artistico. Le frazioni partecipanti dovranno indicare nell'apposito modulo un referente che li rappresenterà e avrà il compito di rapportarsi con l'ente comunale. Gli addobbi dovranno essere realizzati entro le 17 del 15 dicembre prossimo e dovranno essere visibili dall'esterno fino al 9 gennaio 2017. Ogni partecipante sarà diretto responsabile degli allestimenti, sia per quanto riguarda le spese sia per la manutenzione. Per ogni frazione però potrà partecipare soltanto un gruppo che sarà scelto in base all'ordine cronologico delle iscrizioni. Le frazioni partecipanti potranno richiedere gratuitamente al comune l'occupazione del suolo pubblico per le installazioni delle luci e per gli addobbi natalizi. I richiedenti inoltre potranno procedere con l'allestimento solo dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione. Le realizzazioni effettuate dalle frazioni iscritte al concorso saranno attentamente valutate da un'apposita giuria composta da tre giudici nominati dal responsabile dell'ufficio turismo, più il referente che rappresenta ogni frazione iscritta ma che non ha diritto di voto ed esprimeranno una valutazione sulle singole opere. I criteri per la valutazione degli allestimenti saranno qualità dell'opera, originalità del progetto, materiali utilizzati, lavorazione artigianale, difficoltà tecniche, contenuti artistici. Concorso di luminarie che diventerà anche strumento di marketing. Le illuminazioni infatti saranno anche fotografate e pubblicate sui vari portali comunali per promuovere sia il concorso sia la perla del tirreno. La premiazione avverrà durante un'apposita manifestazione aperta al pubblico.